Ciao a tutti i duellanti, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi finalmente siamo qui con un nuovo video in collaborazione con Kona, a questo giro con la presentazione del nuovo Structure Deck, I Red del Fuoco, che ovviamente riprende tutto quello che era presente nel vecchio mazzo Assalto dei Red del Fuoco, uscito il 9 febbraio 2013, potenziando nella meccanica con dei supporti molto interessanti. Detto questo procediamo con l'apertura e andiamo a vederci tutte le nuove carte ma ovviamente anche le ristampe più interessanti. Oh ragazzi, finalmente il nuovo Structure Deck dei Red del Fuoco. Non vedevo l'ora perché nel pratico è bello l'archetipo ma anche la meccanica, in quanto molti degli effetti dei mostri partono quando queste carte vengono distrutte, che siano nel mazzo, che siano in mano o sul terreno, per poi far partire tutti gli effetti. Ma adesso andiamo ad aprirlo così vi spiego meglio. All'interno possiamo trovare questo bellissimo playmat con i tre mostri principali, soprattutto lui che è ovviamente quello di copertina, e sul retro possiamo vedere alcune meccaniche che si potranno poi realizzare con le carte, in più alcune carte che potrebbero andare in combinazione con quello che è il mazzo. Ma detto questo io adesso chiuderei tutto e passerei subito alle carte. Andiamocelo ad aprire e tiriamole fuori. Allora, partiamo da Sacro Red del Fuoco Garunix. È un livello 8, bestialata, effetto. L'effetto dice, se uno o più dei tuoi mostri che erano originalmente fuoco vengono distrutti in battaglia o dà l'effetto di una carta, puoi evocare specialmente questa carta al tuo cimitero, se era lì, quando il mostro è stato distrutto, o mano, anche se non era lì. Quindi, nel pratico ragazzi, se voi vi aggiungete questa carta dopo che il mostro è stato distrutto, in quello stesso frangente, potete comunque evocarlo specialmente. Inoltre, se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi distruggere un mostro fuoco, bestia, guerriero bestia o bestialata nella tua mano, deck o terreno, quindi nel pratico, facendo partire poi altri effetti. Ovviamente ragazzi, eccetto lui. E se lo fai, questa carta guadagna attacco pari alla metà dell'attacco del mostro distrutto, fino alla fine di questo turno. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti una sola volta per turno, ovviamente. Carta molto interessante, soprattutto perché rientra sempre all'interno del campo e considerate che è un 2007 che può diventare ancora più grosso. Passiamo adesso al secondo mostro, abbiamo Re del Fuoco Alto, Avatar Kirin. Mostro livello 8, bestia, effetto, quindi ragazzi capite che questo mazzo tirerà molti i rank 8. Durante la mind phase, se questa carta è nella tua mano, effetto rapido, puoi distruggere un mostro fuoco nella mano o sul terreno scoperto e se lo fai, evoca specialmente questa carta. Quindi, cosa succede? Partono gli effetti e lui entra special. E potete farlo anche nel turno avversario, perché c'è scritto durante la mind phase, non per forza dovete farlo nella vostra. Inoltre, se questa carta viene distrutta e mandata al cimitero, puoi evocare specialmente un Re del Fuoco da mano o cimitero, eccetto Avatar Kirin. Poi puoi distruggere una carta sul terreno, quindi assolutamente niente male perché fa anche un meno uno all'avversario. E anche questo, come sempre, è una volta per uno gli effetti. Passiamo adesso al terzo mostro che abbiamo visto anche questo sul tappetino, che si chiama Re del Fuoco Avatar Rangali. Si tratta di un mostro livello 4, Guerrero Bestia, 1.6. L'effetto dice, se uno o più mostri Re del Fuoco scoperti che controlli vengono distrutti dall'effetto di una carta, eccetto durante la damage step, puoi evocare specialmente questa carta alla tua mano. Quando viene attivata una carta magia o trappola o un suo effetto, mentre questa carta è sul terreno, effetto rapido, puoi annullare l'attivazione e se lo fai distruggi un altro mostro fuoco nella mano o scoperto sul terreno. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti una volta per turno, ma questo varrà per tutti nel pratico. La cosa interessante, a parte che spacca mostro Re del Fuoco, ma fa da negazione da magia e trappola, perché nel pratico potete ovviare a tante carte problematiche, tipo scontro ad armi pari, mettiamola così, considerando che con questo potete tranquillamente annullarla. Andiamo avanti, abbiamo la prima magia, Santuario del Re del Fuoco, è una carta magia continua. Questa carta è molto interessante soprattutto perché permette di far partire tutta la giocata. L'effetto dice, quando questa carta viene attivata puoi mettere un'isola Re del Fuoco dal deck scoperta nella zona terreno, quindi la magia terreno. Una volta per turno, se una carta nella tua zona terreno sta per essere distrutta dall'effetto di una carta, puoi invece distruggere un mostro Re del Fuoco, quindi ragazzi come sempre partiranno gli effetti e proteggete la terreno. Inoltre, una volta per turno, se il tuo avversario evoca specialmente uno o più mostri, puoi immediatamente dopo che questo effetto sia risolto evocare Xyz, un mostro fuoco, utilizzando mostri Re del Fuoco che controllo. Quindi nel pratico, se voi avete loro due sul terreno, potete evocare il mostro Xyz, Re del Fuoco, che ovviamente andremo a vedere dopo. E ovviamente, ragazzi, visto che l'abbiamo chiamato, abbiamo Garunix, Eternità Gang dei Re del Fuoco, che ovviamente è il mostro principale di questo mazzo, dopo ovviamente quello di copertina. Si evoca con due mostri di livello 8, quelli che abbiamo visto prima, e l'effetto dice, se questa carta viene evocata Xyz, puoi distruggere tutti gli altri mostri sul terreno. Quindi, nel pratico, voi lo tirate nel turno avversario e fate piazza pulita dei suoi mostri prima che effettivamente parta con una giocata molto più consistente. Inoltre, puoi staccare un materiale da questa carta per scegliere come bersaglio una carta maggiore trappola sul terreno. E se lo fai, questa carta guadagna 500 d'attacco. Inoltre, se questa carta viene distrutta mentre ha materiali, puoi evocare specialmente mostri Re del Fuoco dal tuo cimitero, fino al numero di materiali che aveva questa carta. Che ovviamente, non essendoci limitazioni, potete rievocare anche lui. E un bel 3000 in campo non è assolutamente male. Passando avanti, abbiamo la prima magia, bruciatura del cielo di Re del Fuoco. È una carta magia rapida. L'effetto dice, scegli come bersaglio un numero pari di mostri Re del Fuoco che controlli e carte controllate dal tuo avversario distruggile. Quindi, ragazzi, ogni carta ha il suo effetto per distruggere Re del Fuoco e effetti assistanti che partono se le carte vengono distrutte. Quindi, anche questa non vi farà fare di meno perché vi distruggete i vostri mostri, partono tutte. Inoltre, se uno ha più carte, Re del Fuoco che controlli, stanno per essere distrutte dall'effetto di una carta, puoi invece bandire questa carta dal tuo cimitero. Quindi, nel pratico, se l'avversario vuole distruggere i vostri mostri, e ovviamente voi non volete in quel caso, avete anche la carta che vi fa la protezione dal cimitero. Onesta, molto carina, ma non la giocherai più della monocopia, in quanto dopo vedremo una carta che comunque può aggiungerla alla mano. Passando avanti, abbiamo anche una trappola, Scaglione di Re del Fuoco, l'unica trappola nuova, che ha un effetto molto particolare. L'effetto dice, evoca specialmente tre mostri fuoco, uno bestia, uno guerriero bestia, una bestialata, uno ciascuno dalla mano, deck e cimitero. Ma i loro effetti sono annullati. Inoltre, distruggili durante l'enferi. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. In questo turno il tuo avversario non può evocare carte o effetti quando tu evochi normalmente o specialmente uno più mostri del fuoco. Non lo so, su questo sono un po' indeciso. Da una parte sembra interessante, dall'altra non so se la giocherei. Anche questa, nel caso monocopia, per adesso non mi convince più di tanto. Ma staremo a vedere adesso quando esce, perché lo proverò un po' e vediamo come montarlo. Detto questo, passiamo all'ultima carta, che è piccolina, ma dall'altro lato è molto forte, si tratta del leggendario re del fuoco Ponix. Allora ragazzi, sembra piccolo, sembra innocente, ma vi dico, da solo fa partire tutta la pombo. In quanto l'effetto dice, se uno o più mostri che erano originariamente fuoco vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Inoltre, se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi giungere una carta magia o trappola re del fuoco, dal deck alla mano. Durante la prossima standby phase, dopo che questa carta è stata distrutta e mandata al cimitero, aggiungi questa carta dal cimitero alla tua mano. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Adesso ragazzi voi mi potreste dire, sì, però come faccio? Cioè, se devo partire per forza con lui, ci deve essere un modo per aggiungerla? Ebbene sì, ragazzi, in età del sovrano è uscito un reparto chiamato Diabelstar, che vi permette ovviamente di aggiungervelo alla mano. Quindi nel pratico, anche con quelle carte, avete la possibilità di avercelo sempre in mano e poi partire. Allora, andiamo avanti. Adesso ci vediamo tutte le ristampe, che da come potete vedere, ragazzi, sono tutti re del fuoco usciti in passato. Quindi abbiamo anche blaster, questo ottimo, soprattutto perché è stato sbandito, quindi potete giocarlo. Anche burner abbiamo. In più abbiamo anche capitano allenatore orso uomo, che ovviamente può tornarci utile per evocare l'ixis di prima. Abbiamo anche soldato allenatore lupo a baglia, che evoca un livello 4 fuoco, che dovrebbe essere cimitero, quindi sempre per fare xis di rango 4. Abbiamo poi anche il vero re Agni-Mazud, imperatore della fiamma infernale. Dogoran, come Kaiju non è assolutamente male, vi serve per rimuovere roba grossa che trovate sul terreno. Fiammeggiante Marte, Colosso Falò, la Fenice Sacra di Neptis, guardie regali per riciclare roba da cimitero, spirito delle fiamme, furetto del fuoco, inneggiatrice testa calda, alfa, anche questa ottima come ristampa. Poi abbiamo Droll, anche questa ottima ristampa, carta fortissima che ovviamente serve all'interno del mazzo, soprattutto perché dà un enorme svantaggio all'avversario durante le giocate e ovviamente non dimentichiamoci che iniziava a essere un pochino difficile da recuperare perché ovviamente dall'ultima ristampa è passato almeno un anno e mezzo, quindi non era così facile da reperire. Andando avanti abbiamo Assalto Re del Fuoco, Cerchio del Re del Fuoco, tutte le magie ovviamente che possono avere a che fare con o i Re del Fuoco o i Mostri Fuoco. Riaccendere, Tenchi anche questa ottima come carta che aggiunge da Decca la mano, poi abbiamo Buconero perché tanto i vostri mostri partiranno, Baratto, Araldo dell'abisso, anche questa non è assolutamente male. Poi tra le trappole abbiamo Contrast of Lamwell come Controtrappola, Carte Spirituale Curenai visto che sono tutti fuoco, Distruzione a Catena, Tributo Torrenziale, Giudizio Solenne anche questa ragazzi, carta difficilissima da trovare. Le ristampe sono molto sporadiche, quando escono tutti le cercano, quindi a un certo punto, passato un anno, inizia come sempre a non essere più reperibile, in modo semplice. Poi abbiamo Impermanenza Infinita, altra carta tipo Droll, visto che questa potete anche tirarla dalla mano e vi permette di negare gli effetti dei mostri. Poi abbiamo Pietra Assorbi Potere, mentre per quanto riguarda l'extra abbiamo Reallenatore Gigadistruttore, anche questa ristampa ottima, visto che è una carta che non veniva ristampata da Cacciatori dei Numeri, che è un'espansione di dieci anni fa, ottimo, soprattutto perché posso tirarla, visto che è un rango 8. Poi abbiamo Lupo Feroce Diamante e come Link, Ita la Magliatrice del Fuoco Infiammata, che vabbè, ci sta. Vediamo, ci sono altre carte dietro. Abbiamo Garunix, ovviamente, immancabile, visto che era il mostro di copertina del vecchio Structure Deck. E poi abbiamo Arvata e l'Isola del Fuoco, che ovviamente era impossibile non mettercela, visto che viene aggiunta del Santuario, quindi mi sembrava strano non ci fosse. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un comment cosa ne pensate del mazzo e ovviamente se il set poi lo acquisterete. Detto questo ragazzi, ringrazio ovviamente come sempre Konami per l'opportunità e noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!